Musica Ciao a tutti ragazzi sono NerdCraft ed oggi siamo qui in un nuovo velocissimo video di aggiornamento Sulle serie che ho deciso di tenere attive sul canale quali no perché c'è un po' di casino insomma Vedo che ho cominciato tante serie poi alcune ne porterò a termine altre no per certi motivi per vari motivi eccetera Quindi ho voluto fare proprio questo velocissimo video che sarà di un minuto se non un minuto e mezzo Per proprio chiarire poi tutto allora Le serie che ho deciso di portare sul canale sono innanzitutto la Dark Trilogy ovviamente Quindi the Dark Trilogy sarà qui presente con noi with Angel36 Non ci trovo la barra di... Sì Scusate Angel36 Poi 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 ci sarà sicuramente Wikimod che ho deciso di portare avanti se riesco a scriverlo perché ho la tastiera inglese Poi ci sarà naturalmente ed ovviamente la Sky Factory Sky Factory 2 E queste sono le serie che sto tenendo attive fino adesso Poi ho fatto la Vanilla 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 Però sinceramente ragazzi l'ho giocata anche un po' oggi Però non mi piace Non so non mi sento l'idea Non mi piace giocare l'Ecosome Quindi siccome non mi piace giocare a qualcosa che non mi piace Non la porterò più avanti Scusate ma Su serio Ci sarà Siccome la Sky Factory 2 è più o meno un let's play moddato Però è strano perché sei su un'isola non puoi minare Ci sono delle eliminazioni eccetera Farò un let's play moddato normale Sulla Die Wolf 20 Che avevo già cominciato secoli fa Però non mandavo perché era bugato Adesso il pacchetto è più stabile Quindi posso farla una serie di tranquillità E queste sarebbero già abbastanza serie Inoltre forse Farò un'altra serie misteriosa Ma non credo eh Credo di portarla avanti Per riportarla più avanti quando una di queste serie finirà O comunque quando avremo più tempo Perché 5 serie sono tantissime Le caricherò tutte più o meno a random Tranne la Darkrylogy Perché Angel carica video Allora mi sembra Il martedì giovedì Sabato e domenica Quindi la Darkrylogy sarà uno di questi giorni Probabilmente qualcosa come Il giovedì e il sabato Oppure il martedì e il sabato Il martedì e la domenica Comunque Sarà due volte in settimana La Darkrylogy credo E gli altri invece andranno un po' a caso Cercherò di tenere appunto un video al giorno Tranne forse la domenica O così Ad ogni modo spero di riuscirci Quindi per questo velocissimo video di update è tutto Io vi ringrazio per la visione Vi rimando il prossimo video che caricherò E oggi vi ringrazio per la visione Grazie a tutti